La verità è che il nostro obiettivo è Praga, andare lo meglio preparato di là e penso che qui questa settimana è stato bellissimo, il lavoro delle ragazze è stato ottimo e soprattutto questo quarto posto è una grande satisfazione per me, ma soprattutto per la squadra per crescere e per andare con fiducia al nostro obiettivo di verità che è l'europeo. Sappiamo che per crescere serve allenamento, serve tempo, serve giocare partite come è successo qui alle Finals, però i miglioramenti di questa squadra sono evidenti. Sì, sono contento per questa idea che la squadra ha cresciuto, abbiamo fatto grande partita con squadra forte e questo è un grande apprenditaggio per arrivare bene preparato al nostro obiettivo finale.